Sciacca Mare è stata la prima grande struttura ricettiva della zona ad accogliere turisti e visitatori dopo la fine del lockdown e dal 1 luglio è stata anche scelta come sede in cui avviare uno stagio formativo per operatori polivalenti in strutture per l'appunto ricettive e ristorative. 12 apprendisti di età compresa tra i 18 e i 60 anni fino al 18 agosto saranno impegnati in diverse attività al fine di acquisire la qualifica di operatore professionale nel settore turistico. Si tratta di un corso organizzato dalla cooperativa sociale Il Ruscello accreditata come ente di formazione professionale che ha sede in via Sarno a Sciacca. Il progetto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Sicilia 2020 ed è autorizzato dall'assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale che mira all'incremento dell'occupabilità in Sicilia. Sono entusiasti dell'esperienza appena avviata i 12 corsisti che hanno atteso la fine del blocco delle attività dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19 per potersi cimentare sul campo nel settore da loro scelto grazie al benestare del patron di Aeroviaggi Club Sciacca Mare Marcello Mangia. Stagisti volenterosi che stanno imparando il mestiere sul campo tra la sala ricevimenti e il bar confrontandosi anche con turisti stranieri attualmente ospiti della struttura. Insomma, si va tornando alla normalità tra una ripresa seppur lenta del turismo da un lato e con il riavvio delle attività di formazione come quella proposta in città dalla cooperativa Ruscello dall'altro. Nuove figure professionali certificate inoltre garantiscono un servizio di qualità al turista ed aumentano la possibilità agli operatori formati di mettersi presto nel mondo del lavoro.